buonasera ragazzi sono i 10 e 23 di sera facciamo questa live ho trovato un nuovo gioco che non vi ho mai portato world track driving simulator ora vi porto stasera questo gioco voglio riportare questo gioco stasera perché non l'ho mai portato in diretta mai 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 col cavo delle cuffie vado scomodo a giocare però non fa niente mi abbasso il volume allora vediamo un po la pubblicità che già ci interrompe abbiamo 1500 soldi ragazzi dobbiamo aggiungere questa barattina la lascia garage vediamo un po la garage che riescemo a vederci qua dal garage non va bene ancora presto ok abbiamo confermato il veicolo ragazzi abbiamo appena confermato il veicolo da gioco appena appena confermato per giocare a questo gioco appena confermare un camion allora un minuto e 42 di live ok continuiamo così entro stasera lo pubblicherò sia su facebook sulla pagina che su youtube youtube domani mattina ragazzi devo dire secondo ben almeno strategica sostri che ho organizzato sasera carriadi del gioco 2 ecco qua volante non la porta posto gage gettiamo subito devo fare subito una pausa controlli dobbiamo arrivare dopo non so grazie a tutti guardiamoci questo video per poi prenderci delle monete la batteria del trefro ho finito per toccare senza le cuffiette poi ricetta un po' più in la cuffiette non so non so Ok, 5.000 dollari Tutto è lungo Abbiamo arrivato a 18 18 Questa volta ci sono preditta Ci hanno anche dato delle sospensioni Ci hanno aggiornato anche con le sospensioni Che si regolano del camera Si abbassano e si alzano per i rimorchi alti Siamo già da 5 minuti in stream Amici 5.46 Ok E' un'altra cosa Perché adesso ci sono che non è che vado a fare questa live Perché proprio adesso? E' proprio voglio fare questa live Perché Me ne mancia se l'abbiamo Se ne devo solo entrare un attimo a girare ma questa volta è sabbia ragazzi si è fatta sabbia grazie a tutti 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 grazie a tutti